Buona giornata a tutti da Radio Gamma 5 che trasmette i 94 FM e la trasmissione del giovedì con Claudio Simeoni di Marghera che vi parlerà di magia, stregoneria e paganesimo e con me oggi abbiamo anche Alberto. Alberto, saluti a tutti, sono Alberto, buon Natale, buona rinascita a tutti. Il nostro amico Alberto vi augura buon Natale perché dice a lui a me le feste sono feste e tutte le feste mi fanno piacere, naturalmente a tutti quelli che lavorano fa piacere essere casa la festa, qualunque sia essere la festa, il diritto all'ozio è un diritto estremamente importante, non dimentichiamocelo. La nostra trasmissione è magia, stregoneria, paganesimo, ringrazio a tutti i radioascoltatori, quelli che ci hanno seguito fino ad oggi, questa è la sesta trasmissione, per la sesta volta ci troviamo a parlare di magia, stregoneria e paganesimo, per la sesta volta stiamo parlando di qualcosa di diverso, naturalmente non abbiamo i tam tam che suonano, però riusciamo a diffondere il nostro pensiero che sembra una quantità sempre maggiore di radioascoltatori si stia affezionando, magari qualcuno dirà, quelli dicono cose che per me sono assurde, però intanto pensa, e quando una persona pensa significa che in libertà ha messo il suo seme. Bene, oggi la trasmissione verterà su uno dei punti sempre della conferenza di Marghera, ricordiamo che la conferenza di Marghera è il 7 settembre sulla quale io continuo a battere perché fu la prima conferenza pubblica di stregoneria, magia e paganesimo, e l'argomento di oggi è la concezione del mondo o il mondo circostante. A differenza della conferenza di Marghera, però noi questo capitolo l'abbiamo diviso in tre parti, ed è importantissimo l'abbiamo diviso in tre parti, infatti oggi parleremo del circostante in sé, come viene percepito dai pagani e dagli stregoni, cioè il circostante come cosciente, come essere cosciente che ci si riversa addosso. La prossima trasmissione, sempre sulla concezione del mondo o il mondo circostante, verterà sulla relazione fra l'essere umano e il circostante nel paganesimo e prenderà lo spunto da ciò che porta a diventare eterni nel paganesimo romano. Cioè praticamente il lavoro può essere uno strumento con cui distruggere l'uomo, può essere uno strumento per costruire l'uomo e vediamo come nel paganesimo romano le divinità del lavoro dei campi servivano non solo per avere il miglior raccolto e la migliore relazione fra l'essere umano e il campo, ma come l'essere umano diventando divinità nelle varie fasi della lavorazione del campo, lui non faceva altro che sviluppare il suo lavoro sul campo, cioè l'essere umano che si fa divinità e questo è un concetto che sarà durissimo e penso che la prossima volta sarà una cosa molto dura. Mentre invece la volta successiva, sempre per la concezione del mondo o il mondo circostante, verterà su alcune pratiche della stregoneria, su come lo stregone si pone davanti al circostante, perché queste pratiche funzionano o non funzionano e la ricerca del potere in stregoneria in relazione al circostante. Tratteremo naturalmente i fondamentali. Ecco, praticamente un ciclo di tre trasmissioni per dire il circostante in sé. Ora comincerò con la descrizione del circostante, che cos'è, come a noi ci appare, cioè il circostante noi lo conosciamo come un insieme di cose, un insieme di forme, un insieme di oggetti con cui ci relazioniamo, però non abbiamo mai pensato come un circostante cosciente uguale a noi, cioè non abbiamo mai pensato un albero, per esempio che un albero pensasse come penso io. Naturalmente io ho problemi diversi dall'albero, per cui il suo pensiero è diverso, le sue tensioni sono diverse, però è uguale a me, non esiste differenze. Ed è importante stabilire questo perché altrimenti non stabiliamo più le relazioni della stregoneria e del paganesimo. Il paganesimo riconosce la coscienza del circostante. La cosa più importante da ricordare è che il mondo è divenuto da sé per adattamento. Ricordiamo sempre ai radioascoltatori che noi blocchiamo le telefonate se qualcuno per la prima mezz'ora, circa mezz'ora, 40 minuti, se abbiate pazienza di telefonare dopo la prima mezz'ora. La cosa più importante da ricordare è che il mondo è divenuto da sé per adattamento. Divenire da sé per adattamento significa sviluppare la volontà per adattarsi a tutte le oggettività incontrate nel corso del proprio divenire. Dal momento che la volontà è determinazione della coscienza di sé, il mondo circostante è formato da coscienze di sé che attraverso la propria volontà tendono a svilupparsi per diventare eterne. Cioè fanno esattamente quello che faccio io. Naturalmente ognuno segue la propria necessità e il proprio divenuto. Un albero non farà mai la mia strada perché lui è albero, io sono una persona, io sono un animale della natura, nella fattispecie sono un essere umano e seguo la via degli esseri umani. Però non c'è differenza fra me e l'albero. Per gli stregoni e i pagani non esiste una coscienza di sé più o meno importante, non esiste un sopra o un sotto, chi è più importante o chi è meno importante. Esistono solo coscienze di sé che sviluppando la propria volontà e le loro determinazioni tendono a diventare eterne. Queste coscienze di sé si sviluppano per simbiosi. Simbiosi è la forma di vita associata per cui coscienze di sé diverse o specie diverse di coscienze stabiliscono fra loro interesse e relazioni funzionali e talvolta anche strutturali con reciproci vantaggi. Per cui c'è la relazione simbiotica. Oppure si sviluppano per complementarietà, complemento dell'oggettività inteso come insieme. Io non vivo estratto fuori dal mondo come un eremita, ma solo insieme ad altre coscienze e il mio cammino si interseca con loro. Per cui le completo, insieme completiamo la natura. Non esiste uno che sia la natura, la natura è in sé. E poi si sviluppano per compassione. E qua fermi tutti che spieghiamo cosa significa compassione dal punto di vista della stragoneria e del paganismo, che non è il concetto di compassione dei cristiani perché bisogna chiarirlo immediatamente. La compassione nella stragoneria e nel paganismo significa vivere delle stesse passioni, nel significato di condivisione della passione e del coinvolgimento nello sviluppo del proprio divenire. Cioè se qui c'è Alberto, Alberto mi dice io devo fare una cosa, perché questa cosa è importante, io vivo la sua stessa passione e gli do una mano per andare avanti. Cioè non è la compassione come considerare miserevole o compatire una persona, ma è vivere con le stesse passioni di quella persona, con le stesse tensioni verso lo sviluppo. La compassione in stragoneria è una forza con la quale ci si unisce per soddisfare i propri bisogni e per svilupparsi. Attenzione che fra il concetto di compassione e stragoneria nel paganismo e il concetto di compassione nel cristianesimo c'è un abisso, perché nel cristianesimo il termine compassione significa essenzialmente compatire, cioè intanto è un miserabile per cui cosa mi interessa a me, questo è l'atteggiamento. Per i pagani e gli stregoni, i pianeti, il sole e le stelle sono coscienze di sé, divenute attraverso le trasformazioni esattamente come gli esseri della natura. Per i pagani e gli stregoni un essere di sua energia vitale è una coscienza di sé, il cui scopo è diventare eterno seguendo la propria sequenza dei mutamenti, le proprie necessità, col quale ci si può relazionare o non relazionare. Il fatto di essere composto di sua energia vitale non lo rende più potente o più privilegiato di ogni altro essere della natura, è solo una caratteristica del suo divenire e anche qui ci dividiamo sempre dal cristianesimo, per noi le cose divengono continuamente al di là del punto di partenza che hanno, per i cristiani c'è sempre bisogno di mettere qualcuno sopra e qualcuno sotto. Il campo vitale di un essere della natura è sempre sufficientemente forte per impedire l'interferenza di un altro essere di sua energia vitale, cioè se uno spirito vuole tentare di fare la guerra a me sono sufficientemente forte per prenderlo a calci, tanto per parlare in parole povere. Vedremo in seguito come alcuni di questi esseri di sua energia vitale seminarono il terrore per mettere in ginocchio gli esseri umani, costringendogli a bloccare i propri flussi di energia vitale e poter così cibarsi di energia vitale stagnata. Usarono il terrore sfruttando l'incapacità e lo sbigottimento dell'essere umano davanti all'alterazione della propria percezione. Si presentavano come immensi e onnipotenti e trovarono fra gli esseri umani dei validi aiutanti che attraverso il potere di avere e la coercizione trovarono utile mettere in ginocchio gli esseri umani stessi. Finora, scusate, se ricordate nella prima trasmissione vi ho detto che gli stregoni dopo l'avvento dell'orore cristiano trovarono le tre forme del Dio dei cristiani. La prima forma, abbiamo detto, è la descrizione biblica. La descrizione biblica che è solo terrore, cioè una descrizione vuota, solo terrifica, che distrugge gli esseri e che non ha nessun senso. La seconda fu il Dio nella filosofia. Questa fu la seconda descrizione e anche questa è una descrizione molto opportunistica e l'abbiamo già dimostrato nelle altre trasmissioni. La terza forma che trovavano gli stregoni fu appunto il fatto che alcuni esseri di sola energia vitale, che erano lemuri in realtà nella religione romana furono lemuri, pensarono a mettere in ginocchio l'essere umano perché l'essere umano in ginocchio blocca i propri flussi di energia vitale, supplica qualcuno di aiutarlo in pratica, e loro possono nutrirsi di energia vitale stagnata. Però non sono potenti. Semplicemente cosa fanno? Aspettano gli esseri umani quando alterano la percezione, quando vedono cose strane e cercano di bloccare i loro flussi mettendolo in ginocchio. Per esempio la visione della Madonna da parte di Bernadette Subiru fu un'operazione di mettere in ginocchio le persone. Lei ha alterato la percezione, ha visto una forma di energia, l'ha descritta come lei è stata educata fin da bambina a pensare a Dio, alla Madonna e tutto il resto, e loro ne hanno approfittato per bloccare i suoi flussi di energia vitale mettendolo in ginocchio ed estendendo la visione in modo di mettere in ginocchio altra gente. I pagani, prima e gli stragoni poi, scoprirono l'energia vitale che chiamarono con nomi diversi e funzioni diverse a seconda della propria descrizione del mondo. Vedremo come chi intende sviluppare la pulsione di morte all'interno delle religioni rivelate, intende piegare queste ai disegni del proprio Dio. Per esempio, una di queste c'è la concezione cristiana dello Spirito Santo che viene spacciata anche quella come la lettura dell'energia vitale. In realtà è un tentativo di strumento in mano a Dio, però esiste sempre questo concetto, esiste questa energia vitale che pregna tutto lo spazio e tutto l'universo. I pagani prima e gli stragoni poi scoprirono che l'energia vitale permea l'universo pronta a trasformarsi in coscienza di sé o a partecipare allo sviluppo di coscienza di sé in divenire. Cioè l'energia vitale praticamente pregna l'universo. Se le condizioni di compattazione, di estensione la favoriscono, subito, immediatamente si trasforma in coscienza. Può essere coscienza della natura o può essere coscienza anche di solo energia vitale. E c'è un lungo elenco con cui i popoli scopritori chiamarono l'energia vitale. E adesso Alberto, che è estremamente gentile, ci leggerà un po' di questo elenco, tanto per capire la diversità. Però, per favore, radioascoltatori, non chiedetemi il significato reale del termine. Io vi ho già detto che io non sono uno studioso, non sono un dottore universitario. Io sono un apprendista stregone che ha un percorso di conoscenza. Per cui io non posso conoscere tutto, io posso solo agganciarmi al tutto, che è diverso. Vai Alberto, che Alberto comincia. Allora iniziamo. Gli scopritori. I oggi indiani lo chiamavano Prana, 3000 avanti Cristo. I cinesi lo chiamavano Ki, anche giapponese, nel 3000 avanti Cristo. Gli ebrei lo chiamavano Ruach, nel 1000 avanti Cristo. Platone lo chiamava Nous, era nel 350 avanti Cristo. I cabalisti lo chiamavano Jesod, era nel 350 avanti Cristo. Ippocrate lo chiamava Vix Medicatrix della natura, era nel 350 avanti Cristo. Aristotele lo chiamava Causa Formativa, era nel 350 avanti Cristo. I cristiani lo chiamavano Spirito Santo, ma era nel 100 d.C. I germani lo chiamavano Vodan, era nel 100 d.C. I sufi lo chiamavano Baraka, era nel 600 d.C. Altri popoli. I peruviani lo chiamavano Huaca, data non rilevabile. Gli indiani irochesi lo chiamavano Orenda, data non rilevabile. Gli indiani Shiu lo chiamavano Wakan, gli eschimesi lo chiamavano Sila, i pegemei lo chiamavano Megbe, i congolesi Elima, i sudanesi Mungo, i boshimani Rum, gli africani Bong, i masai dell'Africa Negai, gli ekoi dell'Africa lo chiamavano Nim, gli elogi dell'Africa lo chiamavano Hakim, gli aborigeni australiani lo chiamavano Haruklita, le tribù australiane dello stretto del Torres lo chiamavano Zogo, i maori lo chiamavano Atua, nelle filippine, le tribù delle filippine lo chiamavano Adrimatrina. Sempre più difficile. Basta. No, vado avanti con ora, dai, dai, ancora un pochino, dai, se no... Siamo spietati e venivano in fondo. Paracelso lo chiamava Mummia, Mummia, bellissimo questo. Altri nomi, ah sì, ecco, Labrawaschi, Labrawaschi la chiamava luce astrale. Va bene, perdoniamo un po' Alberto dei suoi salti e delle sue stanchesse nel leggere. No, in effetti l'energia vitale premia l'universo e chiunque va alla ricerca della conoscenza e della consapevolezza si imbatte in questa e cerca di descriverla. Naturalmente le descrizioni sono sempre descrizioni soggettive. Sottolineo la soggettività. Il pagano e lo stregone affrontano il mondo circostante e lo chiamano con nomi loro. Non esistono dei testi sacri per cui io trovo energia vitale e la chiamo per forza con quel nome. Io la chiamo energia vitale. Se poi altri vogliono chiamare energia vitale va bene, ma sono scelte loro. Però ognuno usa i propri nomi e le proprie espressioni. Popoli diversi, posti diversi, eccetera. A questo naturalmente si contrapone la visione dei cristiani. E voglio sottolineare una volta per tutte. Onde non litigare per radio. Per litigare per radio è sempre assurdo che per cristiani noi pagani e aprendisti stregoni non intendiamo solo il cristianesimo. Chiamiamo cristiani perché oggi viviamo in una società cristiana. Ma chiamiamo per cristiani tutti coloro che sono sottomessi o vengono sottomessi a un maestro, a una parola divina. Cioè la loro possibilità di espandersi nel mondo viene piegata a una rivelazione, a un messia, all'attesa di... a una parola divina. Tutti questi e tutti questi che usano il terrore, perché usano il terrore per mettere in ginocchio. Per esempio, per noi sono cristiani anche gli assiri. Gli assiri che usavano il terrore e la dominazione. Per me sono cristiani. È chiaro che è sbagliato chiamarli cristiani. È chiaro che però dal punto di vista dell'espressione dell'energia vitale, della relazione fra gli esseri umani, della relazione fra loro di venire eterno, le cose non sono diverse. Cioè il terrore per sottomettere è una cosa da cristiani. Che poi dicono, no, sono i musulmani che ammazzano le ragazze ad Algeri perché non mettono il velo e le massacrano. È vero questo. Perché? Perché i musulmani hanno la parola divina. Esattamente come in Italia, i cristiani hanno la parola divina. Ed è una parola divina immutabile. Immutabile. Ricordiamoci sempre che chi usa il terrore ha sempre una parola divina immutabile. Per cui, per noi sono tutti cristiani. E non mi si venga a dire anche i pagani facevano il sacrificio. No. Chiunque domina col terrore è sempre cristiani. Perché i tentativi di mettere in ginocchio gli esseri umani non l'ha affatto inventato il pazzo di Nazareth. Ci hanno già provato precedentemente. Cioè, ci sono stati tanti esperimenti prima che uno riuscisse. È riuscito quello dei cristiani e oggi noi lo consideriamo come elemento base. Se per esempio io parlassi in Egitto, sempre che ci riuscissi, mi riferirei ai musulmani come elemento centrale. Anche se in effetti gli ebrei sono venuti un po' prima. Per cui la descrizione fondamentale del terrore è ebraica. Prima che essere cristiana, prima che essere musulmane c'è. Però io uso il termine cristiani per generalizzare nei confronti di tutti coloro che mettono in ginocchio e che stroncano gli esseri umani. Anche gli scintologi? Anche gli scintologi. Beh, Alberto invece è anche gli scintologi. Io comunque, chiunque ha in attesa di un messia, chiunque vuole piegare gli esseri umani, chiunque cerca di stroncare in qualche modo la libertà, chiunque vuole appropriarsi delle persone, chiunque ha una verità, chiunque ha qualcosa di assoluto, per me è la stessa cosa. Perché io non vi dirò mai a nessuno di credere in quello che vi dico io. Anzi, prediate in quello che vi dico io. Se qualcosa vi serve, bene. E se no, prendete tutto e lo buttate nel cestino delle immondizie. È semplice, no? Non ha nessuna importanza. Boh, costoro, i cristiani in parte in generale, hanno terrore degli esseri di sole e energia vitale, perché li considerano superiori o esseri divini o demoniaci. I cristiani sono convinti che la terra e il sole siano creati da Dio a loro uso e consumo. Pertanto, sono sottomessi ad un padrone e disprezzano chiunque cerchi e coltivi la libertà del proprio divenire. Costoro, i cristiani, considerano il mondo solo forma in quanto creazione immutabile del loro Dio. E non mi si venga a dire che adesso hanno qualche idea diversa, che sono balle. Abbiamo 1500 anni di sperimentazione umana della parola divina e sappiamo cosa significhi. Poi, i trucchi. I trucchi sono solo trucchi da baraccone. I pagani e gli stregoni scoprirono il mondo come energia in trasformazione. Nei secoli passati gli adoratori del macellare di Sodoma e Gomorra ebbero spazio per denigrarli, oltre che per bruciarli. Oggi la scienza dimostra che i pagani e gli stregoni avevano ragione e gli adoratori del macellare di Sodoma e Gomorra avevano torto. A tal proposito, a proposito di quello che la scienza ci può venire in aiuto, ricordiamo il discorso sulle piante, che vi ho detto prima, cioè le piante come coscienti viventi. Quando Bonifacio fa distruggere la quercia imponente, a limite dopo la trasmissione vi leggerò anche il pezzo che ce l'ho qua. Lui odiava la quercia perché i pagani si rivolgevano alla quercia come coscienza, cioè la quercia enorme era il guardiano di quel bosco, era il guardiano di quel luogo e faceva fluire molto velocemente l'energia vitale. Sam Bonifacio, per distruggere gli esseri umani, ha pensato bene di distruggere la quercia, cioè di distruggere quella coscienza. Oggi però, se allora si poteva dire, ah sai, i pagani si mettono in ginocchio davanti alla quercia, che idulatri che sono i pagani, oggi invece la scienza, alcuni esperimenti ci vengono in aiuto e ci permettono anche di discorrere della cosa. Leggo da La vita segreta delle piante gli esperimenti di Baxter, che fu il primo che riuscì a registrare le vibrazioni delle piante. Baxter osservò che se una pianta è minacciata di un pericolo o di un danno gravissimo, essa per autodifesa perde conoscenza, più o meno come avviene nell'uomo. Egli inebbe una dimostrazione lampante il giorno in cui una fisiologa canadese si recoglie nel laboratorio per osservare i suoi esperimenti. La prima pianta non diede alcuna reazione e neppure la seconda e la terza. Baxter controllò i poligrafi e riprovò con la quarta e la quinta pianta, ma in vano. Alla fine la sesta fornì una reazione sufficiente a dimostrare il fenomeno. Volendo scoprire cosa avesse influenzato le altre piante, Baxter domandò alla signora. Il suo lavoro include anche danni alle piante? Sì, rispose la fisiologa. Le piante su cui lavoro le distruggo, le metto in forno ad arrostire per ricavarne il peso all'asciutto per l'analisi. Passati 45 minuti da quando la visitatrice se n'era andata, diretta all'aeroporto, le piante di Baxter ad una ad una ripresero a trasmessere il flusso di reazioni sul grafico. Cioè praticamente non solo le piante sentono, ma le piante sanno, cioè sanno esattamente cosa fa una persona. Cosa succede questo? Succede che alla pianta di me non gliene frega niente, cioè ha il suo percorso di conoscenza, per cui io e la pianta siamo assolutamente indifferenti l'uno con l'altro. Ma se io concentro la mia attenzione sulla pianta e comincio a comportarmi, a farmi venere nei suoi confronti, la pianta percepisce questo e comincia ad allineare le emozioni, le sensazioni, il suo sapere, la sua conoscenza con me. Per cui le piante sono esseri viventi e pensanti esattamente come lo sono io. Siamo diversi indubbiamente, però sono esattamente come sono io. Per cui io non mi posso permettere di pensare a una pianta come legna da ardere. Quando taglio la carota per preparare un minestrone, io so che sto tagliando un essere vivente che tende a diventare eterno. Questo sapere deve, devo averlo dentro, non posso pensare che la carota non sente e non esista. E ancora, se vogliamo, possiamo ricordare gli esperimenti di Lorenz sugli animali. Qui avrei parecchie cosette da leggervi, specialmente sul Corvo Rua. Ma comunque, siccome esistono delle bellissime trasmissioni sugli animali che ci dimostrano la loro intelligenza, basta vedere il telegiornale e la reazione dei gorilla nei confronti di chi è caduto nel bambino caduto nei recinti. Abbiamo milioni di testimonianze sull'intelligenza degli animali, per cui è inutile che andiamo neanche a leggere quello che abbiamo. Però è necessario ricordare che l'intelligenza di un polpo è uguale alla nostra, per carità. Siamo persone diverse, indubbiamente. Abbiamo una conoscenza diversa, abbiamo un adattamento diverso, abbiamo dei fini delle necessità diverse, abbiamo una percezione diversa del mondo, però il fine di entrambi, io è il polpo, io è il virus, io è il verme, io è il sole, io è la galassia, siamo uguali. Ogni essere umano è uguale, ma è uguale come ogni coscienza della natura. E' importante questo. Perché? Perché un pagano e un apprendista stregone prima, uno stregone poi, devono togliersi dal centro del mondo. Il mondo non gli ruota attorno. E sono solo i cristiani che dicono il mondo è mio, l'ha fatto Dio per me. Solo loro è l'atteggiamento di disprezzo nei confronti del mondo. Un pagano e un apprendista stregone si tolgono dal centro del mondo, riconoscono il mondo come uguale a sé, per cui hanno rispetto del mondo proprio perché è uguale. Non perché ne sono i padroni. È necessario ricordare i lavori di MacLean, fino agli anni 70, inizio anni 80, sulla struttura del cervello, in cui afferma che la formazione del cervello è avvenuta per sedimentazione. E l'individuo ha tre formazioni cerebrali fondamentali, che è chiamato cervello rettile, cervello mammifero, corteccia cerebrale, cervello interno. Adesso non ricordo esattamente com'era perché ho perso i ritagli di allora e sono cose che facevo 17 anni fa. Per cui il cervello è cresciuto per sedimentazione. Infatti noi abbiamo anche strutture cerebrali come forma, che sono quasi uguali a quelle degli altri animali. La forma degli oggetti è descritta mediante la corteccia cerebrale. La forma degli oggetti è determinata non dai fenomeni emessi dagli oggetti, ma dalla quantità e dalla qualità dei fenomeni percepiti, cioè quelli che noi percepiamo degli oggetti. Il cervello è tagliato in modo orizzontale dal corpo striato, che ha il compito di selezionare gli impulsi provenienti dalle parti più profonde del cervello, impedendo l'accesso alla corteccia di quei fenomeni che non sono in sintonia con la descrizione della forma. Praticamente cos'è questo? Nel corso della nostra evoluzione noi abbiamo cominciato a descrivere il mondo che ci circonda in maniera diversa a seconda della nostra crescita. Cioè quando noi siamo usciti dal brodo primordiale che strisciavamo come potrebbe strisciare un virus adesso, noi leggiavamo il mondo che ci circondava in un certo modo, però mano a mano che siamo cresciuti abbiamo trasformato questa lettura del mondo. Però quella lettura del mondo non è sparita da noi, noi abbiamo ancora la possibilità di percepire il mondo in quel modo. Soltanto chi dice la parte del corpo striato che gli stregoni individuano come barriera del GH? Dice, ma a te, chi te lo fa fare di percepire il mondo come lo percepisce un virus? Se cominci a percepire il mondo come lo percepisce un virus, come lo percepisce una farfalla, come lo percepisce una lucertola, come lo percepisce un lupo, tu vai fuori di testa, cioè tu non capisci più niente, impazzisci e vai al manicomio, a parte il fatto che il manicomio è pieno di queste persone che hanno concepito il mondo in quel modo. E allora cosa fa questa barriera? Questa barriera seleziona gli impulsi, cioè gli impulsi che provengono dalla parte più antica del cervello, dalla parte interna, vengono selezionati dalla barriera del corpo striato e vengono rimandati indietro. E noi continuiamo a percepire il mondo con la corteccia cerebrale, con la descrizione della forma. Però, siccome gli apprendisti stregoni e i pagani con le loro pratiche forzano questa barriera del GH, e quando significa forzano, significa che permettono agli impulsi da parte interna del cervello di venire alla corteccia, solo che nel forzare fanno un percorso di disciplina che li permette anche di controllare questo e di non farsi travolgere da questo, possono interagire col mondo sotto forma diversa. Cioè, praticamente, non fanno altro che far affluire alla corteccia cerebrale un numero maggiore di fenomeni. Un numero maggiore di fenomeni percepiti dagli oggetti che li emettono significa una migliore descrizione degli oggetti e significa interazione con l'oggetto. Infatti, quando si altera la percezione, non si percepiscono mondi paralleli o mondi strani, ma questo stesso mondo dà altre ottiche e con l'afflusso di altri fenomeni. Questi fenomeni dimostrano come ogni essere umano, ogni essere animale e ogni essere vegetale sono uguali. Sono tutti tesi al proprio divenire eterno, sviluppando le proprie volontà, le proprie determinazioni e i propri adattamenti per riuscirci. Tutte le coscienze di sé non rispondono alla morale umana, rispondono ai loro bisogni. I pagani e gli stregoni possono camminare assieme ad ogni coscienza di sé, in quanto riescono a costruire delle relazioni simbiotiche di mutuo interesse e di mutuo vantaggio. Questo è importante perché se voi leggete alcuni libri di stregoneria, vi dicono che gli stregoni costringono le coscienze a fare quello che vogliono loro, costringono gli spiriti ad agire come vogliono loro, costringono le piante. Non è vero. Possono solo camminare assieme, non si può costringere nessuno. Camminare assieme non è possibile da parte dei cristiani, in quanto essi considerano il mondo e loro proprietà, in quanto dono del loro Dio pazzo. Per camminare assieme a queste coscienze e a queste entità è necessario esercitare la propria volontà, per lo sviluppo del proprio potere di essere. In caso contrario ci si comporta come cristiani, che o costringono qualcuno a sottomettersi o supplicano qualcuno perché li aiuti. I cristiani hanno rinunciato a destrare potere da sé, essi da sé stessi, scusate, e devono strapparlo ad ogni altro essere per usarlo per soddisfare i loro bisogni. Pertanto essi non possono camminare assieme a chi sviluppa il potere di essere, ma possono tentare di sottometterlo oppure possono sottomettersi. Vedremo nelle altre trasmissioni come questo riconoscimento implica un atteggiamento preciso da parte dei pagani e degli stregoni. Il mezzo attraverso il quale le coscienze di sé si legano fra loro è l'attenzione. L'attenzione è il mezzo o lo strumento con cui l'essere si relaziona, in quanto attraverso l'attenzione l'essere concentra tutto se stesso. Vedremo in seguito nelle altre trasmissioni come accumuli di energia vitale altre non servono che per acutizzare l'attenzione permettendo all'essere di scegliere fra più opzioni nello sviluppo della propria esistenza, lungo la direzione imposta dalla sua volontà. L'attenzione mi dà la concentrazione di tutto me stesso, la volontà mi dice anche dove posso concentrarla o dove posso non concentrarla. Pertanto vedremo come i pagani e i stregoni accumulino energia vitale per sviluppare la loro attenzione ed esercino la loro volontà per imprimergli la direzione voluta. Vedremo come e perché nel far questo agli stregoni e ai pagani si affiancano le coscienze di sé del circostante quando i cammini di sviluppo sono affini. Quando io faccio un'operazione di stregoneria subito chi mi sta attorno, sia un pianto, un animale, un'nessa di energia mi si affianca immediatamente perché i cammini sono uguali. Bene, abbiamo parlato del mondo in sé e di come il mondo in sé viene visto dai pagani e dagli stregoni. Gli altri capitolati del mondo circostante, cioè la relazione fra i pagani e il mondo circostante, lo vedremo nelle altre trasmissioni. Adesso se qualcuno vuole telefonare possiamo dare il via alle telefonate. Ricordiamo che Radio Gamma 5 trasmette sul 94FM e il numero di telefono è 049 700 700. Noi continuiamo il nostro escursus pagando, parlando un po' più generalmente del paganesimo. Come vi ho già detto, nell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, ogni persona che vi partecipa è diversa una dall'altra perché hanno i loro divenuti e hanno la loro percezione del mondo. Non esiste un'omogeneità, perché non può esistere un'omogeneità, in quanto il libro sacro dei pagani e degli apprendisti stragoni è il mondo che ci circonda. Percepire il mondo che ci circonda tutto insieme è impossibile. Allora cosa fa una persona? Ogni persona prende dal mondo che ci circonda quello che suona con se stesso, cioè l'armonia del mondo che ci circonda si mette in sintonia con la singola persona e in sintonia la prima persona comincia a camminare, comincia a svilupparsi, comincia a interagire con il circostante. Per cui non possono esserci due pagani uguali o due apprendisti stragoni uguali, tutti sono diversi e tutti hanno le loro specificità. In queste specificità io per esempio, dal punto di vista del paganesimo, sono abbastanza legato a quello che è il paganesimo della Roma Antica. Vorrei un po' spiegare cosa significa questo. Lo sviluppo del paganesimo della Roma Antica era di derivazione latina, praticamente era Sabina, era Sannita, era di tutti, Oscar, di tutti i popoli praticamente attorno a Roma. Questo paganesimo è venuto via via affinandosi, è venuto evolvendosi fino praticamente alla distruzione dei libri Sibillini. I libri Sibillini erano dei libri di profezie, non di profezie, diciamo oracolari, con i quali Roma affrontava le varie crisi che incontrava nel corso della sua esistenza. Questi libri Sibillini vennero distrutti con l'incendio del Tempio di Giove Capitolino. In quell'incendio vengono persi questi libri Sibillini e guarda caso, due anni dopo la distruzione di quel Tempio, arrivarono il periodo Sillano. Il periodo Sillano dopo la guerra fra Mario e Silla non fu altro che il prologo all'avvento del primo uomo Dio, cioè praticamente il paganesimo romano cessò di evolversi e cominciò quel processo per cui attraverso Giulio Cesare e tutti gli altri si arrivò all'imperatore Augusto, cioè un altro uomo Dio. Purtroppo la storia è piena di personaggi che dicono io sono Dio o una cosa del genere e distruggono il divenire umano. Proprio in questi giorni noi a Roma avevamo alcune festività e alcune di queste festività sono i Saturnali. I Saturnali erano delle feste molto gioiose, con molto sesso anche, molto piacevoli, che avevano una caratteristica molto particolare insieme alle altre feste del paganesimo romano. Avevano una caratteristica che durante i Saturnali ogni differenza di persone scompariva. E di servi, col pileo dell'uomo libero in capo, banchettavano insieme con i padroni, quale ricordo dell'uguaglianza antica. Cosa significa questo? Significa che nel periodo dei Saturnali venivano abolite tutte le differenze di classe, anzi addirittura i padroni servivano a tavola. Saturno è l'immagine dello stragone antico, cioè è colui che agisce per favorire lo sviluppo della propria specie. E Saturno non può tollerare né la schiavitù né il servaggio. E appunto per celebrare il Saturno c'era proprio l'inversione dei ruoli sociali. Naturalmente quando arrivarono i cristiani cancellarono tutto questo, perché per loro era paura. Bene, a questo punto, nel momento che non ci arriva nessuna telefonata e nel momento che la voce si fa sempre più roca, io vi mando un po' di musica dalla Danza Sacra di Debussy e poi continueremo nella nostra esposizione. Ed ecco, vi mando un po' di musica. Molto bene, ed eccoci qua nuovamente a parlare di magia, stragonaria, paganesimo. E visto che abbiamo un bel po' di tempo che le telefonate non ci hanno mai lasciati così tranquillo, da ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, vi parlerò proprio dell'attenzione sui campi. Il lavoro sui campi era molto vario. Vedremo come numerosi siano i centri di energia vitale che il fare degli esseri umani costruisce attraverso il suo fare in relazione a quel circostante. Importante è preservare il fare. È importante per gli esseri umani accumulare conoscenza a conoscenza, in modo che la sua continua espansione sia garanzia di ricchezza e di benessere per il sistema sociale in cui vivono e costituiscono punto di non ritorno nel progressivo sviluppo del fare. L'essere umano si relaziona col circostante attraverso il suo fare, ma il suo fare è guidato dalla sua attenzione. Il fare umano manipola l'essere umano attraverso le relazioni col circostante e questa manipolazione si fissa nell'essere umano attraverso la sua attenzione. Affinare l'attenzione significa porre questo in relazione coi centri di energia vitale del circostante, con i quali scambiare conoscenza ed energia vitale. Fissare il fare significa manipolare l'attenzione, significa costruire dei gesti automatici delle priorità del fare attraverso le quali il circostante prende vita, trasferisce energia vitale e fonda le proprie aspettative per trasformarsi diventando eterno. Le aspettative del circostante si sviluppano in relazione allo sviluppo e alla direzione dell'attenzione del singolo essere umano. La manipolazione dell'essere umano nei confronti del circostante avviene trasferendo nel fare la percezione della propria attenzione. L'attenzione manipola l'essere umano costringendolo a fagocitare il sapere e la conoscenza, rende automatico e necessario quanto all'essere umano serve. L'essere umano deve superare il proprio condizionamento educazionale per diventare eterno, ma deve fagocitare il sapere e la conoscenza per sviluppare del proprio divenire. L'attenzione deve essere preparata, acquita, lisciata e specializzata in funzione dei singoli fare. Un fare è un effetto di cause e cause di altri effetti. Quando gli effetti si riproducono nelle relazioni fra l'essere umano e il circostante, questi costruisce dei centri di energia vitale nei quali fa riposare la propria attenzione durante il fare e con i quali versa e preleva energia vitale per affinare la propria attenzione all'interno del fare. Così, relazione dopo relazione, il centro di energia vitale acquista una propria coscienza e una propria consapevolezza attirando gli esseri umani per riprodurre quei gesti e quel fare onde permettergli una serie di mutamenti e arricchimenti che gli consentano di accumulare una quantità sufficiente di energia vitale e di consapevolezza da intraprendere un cammino verso l'eternità. Nella religione romana ci sono rimasti una serie di dati che consentono di tracciare un percorso di affinamento dell'attenzione umana attraverso la cultura delle messi. Innanzitutto è da rilevare come estese il concetto che ogni seme e ogni campo avesse una propria coscienza di sé e una propria consapevolezza. Il campo è un'entità vivente che può partorire entità viventi che attraverso l'uso della propria volontà e delle proprie determinazioni tendono a diventare eterne. Anche se il loro cammino di eternità viene interrotto dall'essere umano e da altri esseri che si cibano di loro, c'è sempre qualcuno che per una qualche ragione può continuare a diventare eterno. Così i chicchi di grano sono come le uova dell'essere salmone, alcune fra migliaia si schiudono. Così come non tutte le larvi di zanzare si trasformano in zanzare, qualcuno ci riuscirà. I semones sono la forza germinativa dell'oggettività, la forza germinativa del campo. Maggiore la forza del semones è maggiore la sua capacità di generare, una forza che deve essere sempre rinnovata, una forza da cui attingere senza saccheggiare. Il semones indica la divinità, è la prima relazione oggettiva che l'attenzione dell'essere umano incontra e col quale costruisce una sua relazione. L'identificazione del contadino col campo è una relazione quasi inscindibile. Il campo si nutre del contadino, il contadino si nutre del campo. L'industrializzazione moderna ignora la relazione fra l'essere umano e il campo. La distruzione operata dai cristiani in questa relazione attraverso l'annientamento dell'attenzione fra l'essere umano e il suo circostante. Diventare ciechi all'oggettività era lo scopo dei cristiani. Rendere muta oggettività la sua forza di attrazione nei confronti degli esseri umani. Ma semones si rinnova ogni volta che si rinnova la relazione fra l'essere umano e il campo. L'industrializzazione allontana la relazione per rendere il fare umano meccanicistico, privandolo della componente magica, attraverso l'annientamento dell'attenzione dell'essere umano. Ma sempre ci sono e ci saranno esseri umani che si relazioneranno con il campo, soltanto per il fatto di vedere germogliare le piante che essi hanno curato per il solo piacere di curare. Come il contadino romano italico concepisce il campo con un'entità vivente, in quanto parte dell'entità vivente più grande, l'essere terra. Così quel contadino considera ogni seme un'entità vivente e base del divenire di esseri che, attraverso le loro determinazioni e le loro volontà, fondano il proprio divenire eterni. La divinità sessi corrisponde alle sementi come mani corrisponde all'essere umano e i lemori agli esseri solo energia vitale. Sessi è una forza che spinge al divenire eterno delle messi. L'unione di tre volontà fonda il divenire. Semones è l'oggettività in cui sessi si sviluppa e l'essere umano è la gente che dà lo sviluppo di sessi trae il beneficio. Ma il beneficio traggono anche i sessi, in quanto i loro semi si diffondono sull'intera superficie della terra, è il beneficio tra i semones, nel quale l'essere umano contribuisce a sviluppare esseri compensando quelli che aveva tagliato per liberare il terreno, rendendolo adatto al proprio fare e ai propri fini. Semones, sessi e l'essere umano cominciano a manipolare l'attenzione dell'essere umano. Si modificano anche sessi e semones, ma noi considereremo la cosa soltanto dal punto di vista umano, in quanto questo è quello che teniamo in considerazione, pur senza dimenticare che all'interno di una relazione tutti gli oggetti concorrenti alla relazione vengono modificati dalla relazione stessa. L'essere umano agisce sull'oggettività, la modifica, ma l'oggettività non è passiva nella modificazione, a sua volta modifica l'essere umano in funzione del suo fare e delle sue predilezioni della sua ragione. Per ottenere un risultato finale, il fare umano passa attraverso una serie di operazioni che conducono al risultato finale. Il risultato finale non è l'atto del macellaio di Sodome Gomorra o del matto di Nazareth che ordina il vento di fermarsi o di estendere il braccio del Buddha. È il risultato di una serie di esplosioni di volontà che agendo mutamento dopo mutamento producono l'effetto desiderato. L'effetto desiderato, a sua volta, manipola l'attenzione costruendo quella relazione magica che trasforma l'essere da momento attraverso il quale l'essere umano manipola il circostante a momento in cui l'essere umano viene manipolato per trasformarsi in proserpina, diventare eterno. Preparare il terreno in cui deve avvenire la semina equivale a preparare l'essere umano nel quale deve svilupparsi l'essere luminoso. Preparare il terreno attraverso l'illustrazione, attraverso la ratura. Senza la preparazione del soggetto non è possibile curare il divenire delle messi, esattamente come senza la preparazione alla prossima. Grazie a tutti.